Bentornati a una nuova puntata di Dal Vivo. Nell'appuntamento di oggi siamo in collegamento con Renato Sarti, direttore del Teatro della Cooperativa e regista dello spettacolo di cui ci parlerà oggi, intitolato Imi e ci amava per nome, 44.787 risiera di San Sabba, spettacolo che andrà in scena dal 23 al 28 gennaio, nella settimana della Giornata della Memoria, proprio al Teatro della Cooperativa. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a lei di essere con noi. Le chiedo appunto di parlarci, di dirci da dove parte, da dove nasce l'idea di realizzare questo spettacolo e su quale tema si incentra principalmente. Per quello che è il giorno della memoria, vale la pena ricordare una delle pagine più terribili del grande capitolo tragico della deportazione, perché la risiera di San Sabba a Trieste è stato l'unico lager situato sul territorio nazionale italiano con forno crematorio. Da 2.000 ai 5.000 alle vittime, è stato aperto dai tedeschi immediatamente dopo l'8 settembre ed è durato fino alla fine della guerra. Era un campo di esterminio simile ai peggiori campi di esterminio che avevano operato in Polonia, Sobi, Borbez e Treblinka, perché i personaggi, i carnefici di quella grande tragedia, si parla di 2 milioni di ebrei uccisi e soltanto 74 i sopravvissuti, quelli che avevano gestito quell'operazione, si chiamava Axon Reiner, poi arrivano a Trieste e si adoperano sia per l'azione antipartigiana e sia per sopprimere gli ebrei, gli oppositori politici, i testimoni di Geova, quelle che erano le categorie chiamate Untermension. Quindi una pagina un po' dimenticata della storia del nostro paese che da me poi triestino più che mai penso sia opportuno ricordare. Il testo da cui nasce lo spettacolo ha conseguito una segnalazione speciale e anche un premio per la produzione. Quanto è stato importante per la costruzione dello spettacolo avere un patrimonio simile a disposizione con anche l'aiuto di due storici? Beh, a volte dei due storici che hanno raccolto le testimonianze ho avuto la fortuna, la grande fortuna, non solo dal punto di vista teaterale, sia ben chiaro, ma anche umano, civile, sociale, di aver conosciuto parecchi di questi ex-deportati, ho raccolto le loro testimonianze, alcune mi sono state messe a disposizione da Marco Colosso, vice-n-Silva Bon, dell'Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione Trieste, ma alcune, proprio poi questi deportati, i deportati li ho conosciuti. Ed è, diciamo così, stata un'esperienza indelebile, perché conoscere quello che hanno patito, sofferto queste persone, che loro per fortuna poi sono tornate, ma molte altre non sono tornate, che hanno sacrificato la vita o parte degli anni loro più belli per la democrazia e la libertà, beh, è importante, perché significa ripercorrere quel tracciato, quel percorso di morte, di terrore, di orrore che è stato il nazifascismo. Lo spettacolo quindi raccoglie sia le testimonianze degli ex-deportati sopravvissuti, ma anche le deposizioni dei carnefici di questo campo di sterminio. Qual è quindi la visione che il teatro vuole dare a questi avvenimenti e come è cambiato anche il riscontro da parte del pubblico nel corso degli anni di questo spettacolo rispetto a questo tema? Ma, sì, quel percorso che dicevo prima, questa è stata una specie di professore universitario, di lo sterminio, perché oltre all'azione Axion Reinhardt, che ricordavo prima, c'era anche un'altra operazione importantissima a cui avevano partecipato, la prima a cui avevano partecipato, erano stati protagonisti in l'Axion Tefir, azione T4, dall'indirizzo segreto della sua sede a Berlino, Tiergarten Strasse IV, che fu la prima operazione di sterminio di massa, prima ancora degli ebrei, dei politici, degli omosessuali, dei testimoni che aveva per il loro pacifismo, degli zingari, perché si scagliò contro la categoria dei malati di mente, i disabili, i portatori di handicap e dei bambini affetti da malformazione. Questa concezione eugenetica, la teoria eugenetica, che bisognava sterilizzare, prima sterilizzare, per impedire che alcune persone, diciamo così, vite indegne di essere vissute, così erano chiamate, si riproducessero. E poi, invece, si è passato allo sterminio. La prima categoria vittima è proprio se trate queste, i malati mentali, i handicappati, i portatori di handicap, disabili e bambini di aspetto di malformazione. Quel gruppo di criminali nazisti che portarono a termine questa azione, che fu interrotta nel 1941 da Hitler, poi passano alla Polonia e poi arrivano a Trieste. Prima di salutarci, ricordiamo a chiunque fosse interessato di andare a vedere lo spettacolo, a saperne di più, che potrà trovare tutte le informazioni utili sul sito del Teatro della Cooperativa. Io la ringrazio per aver partecipato a questo collegamento e le auguro un buon proseguimento di lavoro. Grazie mille, grazie mille della gentilezza.